Le favole, le bugie, le menzogne, gli inganni dell'ex sindaco Rinaldo Melucci, quegli inganni politici quando dice di aver fatto rinascere Taranto, di aver seminato la rinascita. Siamo nel borgo antico, nella città vecchia, quella che dovrebbe essere una perla, così come sanno valorizzare altre città d'Italia, e invece abbiamo uno sconforto, un degrado assoluto. Eccoci presso il celebre, mitico Palazzo degli Ponti, un palazzo che giace completamente abbandonato, un palazzo di pregio storico unico e appunto nel sottosuolo anche, vedete, un prezioso ipogeo di epoca greco-ortodossa. Guardate un po' un palazzo che in altre città d'Italia diverrebbe una perla, diverrebbe meta di turisti e quindi creerebbe un ritorno economico enorme in tutta la zona, invece giace così come un rudere abbandonato a se stesso. Che tristezza vedere anche tutto il panorama circostante decadente e decaduto. Che tristezza vedere di fronte lì una finestra delle imposte completamente aperte perché segnano, testimoniano una casa abbandonata. Ma torniamo appunto qui a Palazzo degli Ponti e guardate che scempio, che abbandono totale, qualcosa di vergognoso. Qui neanche è chiuso e qui sotto ci c'è un ipogeo, come detto, di epoca greco-ortodossa. Guardiamolo insieme e si trova così, abbandonato. Abbandonato. Ma è mai possibile che la storia viene così deturpata, offesa, calpestata? Questo ha saputo fare l'amministrazione Melucci. L'amministrazione Melucci-Musillo, sì, perché entrambi hanno amministrato. Anche Musillo che ora si è distaccato da Melucci, lo ha fatto alcuni mesi fa. Ma per quattro anni e mezzo il signor Musillo ha avuto i suoi uomini nelle società partecipate. In giunta un ipogeo che grida vendetta, che in altre parti d'Italia sarebbe stata una perla. E che tristezza vedere questa realtà, questo Palazzo degli Ponti, che non presenta, non reca neanche una scritta, appunto attestante, significante, rappresentante, Palazzo degli Ponti. Nulla. L'amministrazione Melucci e la cultura hanno fatto a botte tra loro. Ma purtroppo in questa lotta, ad averla peggio, ad essere stata davvero schiaffeggiata e colpita, è stata la cultura. Una cultura calpestata. Che orrore, che orrore. Mi sono candidato sindaco anche per questo. Io vengo dagli studi classici. Ho studiato i classici, ho studiato il greco, il latino. Ho studiato la nostra storia, le nostre origini. Ho studiato la storia dell'arte. E non posso permettere che una città venga deturpata fino a questo punto. Non posso permettere, ho rabbia nel vedere che altre città italiane vengono valorizzate. Che sanno valorizzare persino una pietra. E qui invece tutto giace nell'abbandono. Ma andiamo via a casa, ma andiamoli via. Melucce e Musillo, ma andiamoli via. E quando andrete in cabina elettorale, pensate un po' a questo ipogeo così abbandonato, così marginalizzato, ghettizzato. E pensate a questo fantastico palazzo, che doveva essere davvero un faro, un punto di riferimento. Troverete la forza, allora in quel momento, di spazzare via questa gente e votare Luigi Abbate sindaco e votare Taranto senza Ilva. Insieme possiamo farcela. Ce la sto mettendo tutta. Ce la sto mettendo a monte i miei soldi, il mio entusiasmo, la mia salute, la mia energia, il mio sogno di una Taranto diversa. Ho combattuto 21 anni da giornalista. Ora voglio farlo da sindaco, se voi lo vorrete.